L'Odissea stasera abbiamo Davide Riondino e Dario Vergassola con noi è il libro che in qualche modo crea un ponte con un'altra Odissea forse un'Odissea mai scritta ma tramandata in forma orale cioè l'altro viaggio di Odisseo il viaggio che gli aveva annunciato l'indovino Tiresia nell'undicesimo canto gli aveva detto una volta che sei arrivato a Itaca una volta che avrai compiuto la strage non finisce lì il tuo viaggio, dovrai ripartire questa volta dovrai ripartire e fare un lungo viaggio, un'altra Odissea ma sarà un Odissea per terra non sarà un Odissea per mare dovrai portare un remo su una spalla e quando sarai così lontano dal mare che chi ti incontra non saprà riconoscere che cos'è l'oggetto che porti sulle spalle non saprà dire che cos'è se è un remo o un ventilavo beh lì sarai arrivato a destinazione pianterai il remo, farai sacrificio agli dei e solo allora potrai ritornare davvero nella tua terra a Itaca Adesso Davide Riondino e Dario Vergassola, grazie Salve a tutti, buonasera Mi sembra che l'abbia già raccontata tutta quindi sappiamo anche chi è l'assassino e soprattutto provo a ringraziare lo scenografo per questo sforzo interiore per rappresentare la crisi quindi ci siamo la serata molto culturale io ho fatto l'istituto tecnico non so perché sono qua e mi hanno tirato dentro questa cosa qua e io farò solo cose culturali la cosa che sta su non mi ricorda qualcosa di mio e vedi io vado a posto quindi se volete possiamo cominciare tutti assieme a cantare delle canzoni vedo che c'è anche no, no, no c'è anche Costanzo tra poco che esce dall'Ade la serata è molto con un piede di qua e un piede di là impegnativa diciamo e impegnativa soprattutto per me se non sai avvitare quella roba di qua la prima domanda è questa cioè uno può pensare come mai Dario è qui anch'io sto pensando a questo ma scopriremo che ci sono profonde affinità tra il pensiero di Omero e il non pensiero di Vergasso come un sopra e un sotto un dentro un grande autore non può non comunicare a tutti intendo come io ho uno zio che si chiama Omero quindi parliamo di mio zio è già un punto di partenza i grandi poemi popolari o sono popolari davvero o non lo sono e se lo sono qualche motivo profondo hanno di esserlo hanno il motivo che la storia dell'Odissea è la prima grande storia di viaggio e che anche Vergasso in qualche modo come vedremo c'entra con l'idea del viaggio Vergasso è anche scrittore ne ho scrittore non voglio fermarmi solo alle apparenze prima di trovarci con dei fenomeni affermati che non sappiamo spiegarci cerchiamo di conoscerli nel momento in cui si definiscono insomma quindi il Vergasso è la scrittore avremo anche un po' modo di incontrarlo stasera ma soprattutto il motivo per cui Vergasso è in scena è un altro che per una legge fatta dal ministro Bondi quando ancora era ministro con buon'anima che sta passando al PD pensa che allegria questo partito meraviglioso non ho capito una mazza io da quando sono nato per una legge fatta come ultimo atto quando era ministro della cultura lui ha fatto una circolare per cui considerando l'abbassamento del livello nazionale di acculturazione del popolo italiano e ritenendo che ciò derivi soprattutto dal scarso livello di preparazione dei comici televisivi così dice dell'influenza della televisione c'è l'obbligo per ogni comico televisivo questo lo specifica il comma quarto articolo 27 di incontrarsi una volta all'anno con un classico della letteratura mondiale non necessariamente a Genova con estrazioni assorte e quindi a Vergasso è toccato stasera incontrarsi con Omero e l'ultimo canto dell'Odissea quindi non faccio lo spettacolo mio devi commentarlo devi ascoltare devi capire io c'ho lo spettacolo scusate io c'ho tutto lo spettacolo mio che c'ho uno spettacolo solo di battute perché ho detto mi piaceva più fare le cose tipo cappezzone colpito al volto da un pugno dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione allo sossacro cioè io le trovo più belle molto più belle di quelle che dice lui tutta la sera ma io non devo dirti le battute il motivo per cui Bondi ha fatto ma stiamo assieme a fare lo spettacolo è proprio questo pensavo che era la gara di cabaret non solo allora quando è stata fatta questa circola Barbara Berlusconi ha sostituito il padre al Milan entusiasmo negli spogliatoi tac, sono veloci facile e quindi lui 84 anni lei 82 anni spacciavano e consumavano cocaina un raro esempio di pensionati che riescono a tirare fino a fine mese sono facili cioè no 8000 adesso mi dispaccate la serata con queste cazzate qua di sti morti sono morti tutti le ombre le cose il senso della circolare Bondi è proprio quello che è stato palesato in questo momento ma non era meglio se moriva lui i Bondi tutti noi facevamo la cosa per cui una volta all'anno deve incontrare un classico quindi tu devi ascoltare capire di che si tratta e poi commentare va bene e dire quello che ti arriva se non commenti alla fine non viene verbalizzato perché c'è in sala un commissario dello Stato che prende a ma cosa stai dicendo? e se tu non fai bene questa cosa ti cancellano tutti i contratti televisivi che hai e anche te io avevo capito che avevi smesso di fare uso di sostanze non so di cosa ma capiti quindi? io poi ho l'ansia io mi spavento già sai che io sono ipocondriaco così ipocondriaco che la prima volta che mi sono fatto una canna ma la sono fatta in macchina l'avevo già pronta il soccorso poi avevo l'ansia quindi vorrei quindi devo stare zitto e stare a sentire questa roba qua esattamente forza Bondi esattamente questo io vi dico una cosa perché secondo me era maggior mio se vi rompete telefonate che c'è una bomba come a scuola andate fuori telefoniamo e ce ne andiamo andiamo fuori che fa caldo ci andiamo a fare i gavettoni in piazza di cosa stai facendo? sto prendendo il punto per cominciare leggendo non tutte l'ultimo ah non tutta perché non la legge tutta è già andata bene ragazzi già non la legge tutta come vi ha raccontato Maifredi c'è stato siamo alla mi siedo perché non ce la faccio più all'ultimo all'ultimo atto della Giuliano Ferraro lascia la RAI liberando così tre posti erano bellissimi cioè non c'è stato no ce ne ho mille basta non ti capisco ma qui non si non si mette in dubbio questo fatto si mette in dubbio che si possa vivere solo di questo capito? beh è per questo che c'è un commissario qua e se tu non segui questa roba ti tagliano tutto siamo arrivati all'ultimo atto c'è stato l'incontro come dicevamo Eifredi le anime dei prosci cioè dei? dei prosci se ne vanno al non chiamarli così all'ADE l'incontro sono come noi anche se sono un po' così cioè non è che dobbiamo subito cominciare a farsi cose l'incontro con la cammina avranno fatto outing e saranno come gli altri la descrizione dell'ultima battaglia la qualcosa peraltro in questo bellissimo ultimo canto ci fa pensare e riflettere come è stata poi composta l'Odissea che è composta da mille racconti di mille A e di narratori che come demodoco quando dai feaci no? tu sei presente? sì Ulisse si manifesta i feaci fanno anche le analisi non sa non si sa che Ulisse ascolta raccontare da un poeta pensate che il poeta che mette in scena il poeta che racconta raccontare la storia della guerra di Troia raccontare le proprie gesta raccontate da una Edo allora piange e gli dicono che è successo e lui dice io sono quello di cui stanno raccontando e inizia a raccontare il suo ritorno dopo che è stata incendiata a Troia però gli aedi andavano in giro raccontando a braccio anche nessuno poteva avere a memoria la quantità diversa di cui è composta l'Odissea e quindi da gli aedi i poeti che andavano in giro a raccontare le storie dei guerrieri e delle guerre in questo caso dei ritorni dei guerrieri dopo la famosa guerra di Troia c'è tutto un ciclo di ritorni ma questa cosa immagino che le sappiate perché altri incontri ne hanno parlato ampiamente e uno di questi ritorni è l'Odissea l'ultimo canto infatti come nella pratica di questi poeti popolari ripete le cose che sono successe prima e nella prima parte c'è tutto un riracconto della battaglia fatale nella quale tutti i progetti sono stati uccisi con questa specie di arma segreta quest'arco minaccioso che sapeva usare soltanto lui che Ulisse ha tirato fuori riuscendo dal suo travestimento e facendo finalmente giustizia come supereroi dopodiché che cosa succede? si torna dopo questa bellissima narrazione tra le ombre dei proci nell'Ade si torna alla luce del sole sopra si sale come fosse un film avremmo questo movimento dal buio alla luce e siamo in una specie quasi di western tutto sommato c'è Ulisse che con pochi compagni aspetta l'ultimo duello che sarà con chi? con i genitori con i parenti con i miei amici dei principi che l'ha ucciso perché ci sarà una reazione mentre la aspettano all'incontro che vi ha raccontato Sergio col padre l'Aerte poi ritorna alla sua villa ranch e si prepara a difendersi si prepara a difendersi intanto nel campo opposto succede l'Aerte è il figlio di Coso quello che canta ricominciamo l'Aerte si è vero no? è lui parli di lui no? ha detto l'ultimo canto intanto per la città dovunque corriva messaggera la voce che dei proci annunciava la morte e il crudele destino parli con me adesso? parlo con me sentiamo questo cosa dice sentiamo quello che c'hai da dire compiamo l'Odissè e poi ragioniamo di quello che succede dopo udendola tutti i parenti da ogni parte accorrevano in folla con grida e lamenti davanti alla casa di Odisseo portavano fuori i cadaveri li seppelliva ciascuno e quelli di altre città li affidavano a marinai che su navi veloci li trasportassero a casa poi nella piazza si radunarono col cuore pieno di angoscia e quando furono tutti insieme riuniti si levò tra loro Eupite eh? Eupite una malattia alle orecchie Eupite colpisce molti marinai Eupite e prese a parlare non ridere cerca di nel cuore covava il dolore intollerabile per Antino per Antino che il divino Odisseo uccise per primo per lui piangendo egli parlò e disse amici è grave ciò che costui ha fatto agli achei molti valorosi uomini portò via sulle navi e le navi perdette anche gli uomini poi ritornò e uccise i più forti tra i cefalleni i cefalleni sono sempre loro e dunque prima che piombi su Pilo o nella divina Elide dove gli epei governano andiamo o ci copriremo di infamia per sempre perché è una vergogna anche per chi in futuro verrà saperlo se non puniremo chi ha ucciso i figli i fratelli per me non sarebbe più cara la vita vorrei piuttosto morire unirmi ai morti al più presto andiamo dunque che non ci prevengano e varchino il mare così disse piangendo ne ebbero pena gli achei ma dalla casa di Odisseo sopra giunse Medonte eh con il divino cantore e si fermarono in mezzo restarono tutti stupiti tra loro presi allora a parlare il saggio Medonte Medonte che sembra un animale preistorico il Medonte gente di Itaca si vede che l'assemblea no? l'assemblea datemi ascolto non è senza il volere dei numi che Odisseo compì queste azioni vidi io stesso un dio che stava al suo fianco e somigliava a mentore in tutto era il dio sotto forma di mentore ed era un dio immortale che davanti a Odisseo ora appariva per dargli coraggio ora atterriva i pretendenti infuriando dentro la sala ed essi cadevano l'uno sull'altro disse così e per il terrore impallidirono tutti presi allora a parlare tra loro il vecchio Aliterse figlio di mastore ah ecco solo vedeva passato il futuro ma sai che se lo fai a scarabè o c'hai tanti di quei punti cazzo e con saggenza egli vedi cosa succede a scuola stiamo ricostruendo quello che succede nel dramma della scuola italiana come si chiama l'ultimo? si chiama Aliterse come si chiama? Aliterse tutti lo pigliavano per il culo Aliterse Aliterse con saggezza egli parlò e disse anche a me dati ascolto i tacesi per la vostra viltà amici tutto questo è accaduto non avete ascoltato a me né mentore signori dei popoli per far cessare i vostri figli dalla loro follia dalle azioni indegne con quei nomi che ci avevano con arroganza malvagia divorando gli averi oltreggiando la sposa di un valoroso dicevano che non sarebbe tornato ora fate così come dico datemi ascolto non muoviamoci non attiriamoci addosso sciagure disse così ed essi balzarono in piedi gridando erano più di metà gli altri rimasero fermi non piacquero loro questi consigli a Eopite davano ascolto e corsero subito a indossare le armi e quando ebbero rivestito il bronzo accecante si radunarono in folla davanti alla grande città le guidava Eopite che nella sua follia pensava di vendicare la morte del figlio e invece non sarebbe più ritornato e avrebbe compiuto lì il suo destino e Zeus figlio di Crono guardava e Atena gli disse si va in cielo e c'è un dibattito tra gli dèi palla di Atena? sì quella che era un po' con i globuli bianchi un po' palla di Atena capisci questi piani no? l'assemblea è poi di dèi oh padre Zeus io ho solo paura che mentre noi parliamo si sono alzati tutti piano piano sono già un po' no sono venuto apposta per sentire questo oh padre Zeus sommo e potente rispondi alla mia domanda la tua mente cosa nasconde? farei proseguire la guerra crudele? la mischia tremenda? o tra di loro vuoi mettere pace? a lei rispose Zeus signore dei nembi perché figlia mia mi chiedi questo il piano l'hai concepito tu stessa che Odisseo si vendicasse di loro fa come vuoi io ti dirò quello che è giusto poiché il divino Odisseo ha punito i pretendenti stringano tutti dei patti leali e lui regni per sempre sulla morte dei figli e dei fratelli noi stenderemo l'oblio saranno amici tra loro come erano prima e regneranno pace e ricchezza disse spronando Atena che era già impaziente ed essa balzò dalle vette d'Olimpo quando furono sazi del cibo gradito tra loro presi a parlare il paziente divino Odisseo esca qualcuno e vada a vedere se stanno arrivando e inizia l'ultimissima parte gli dei hanno deciso quando si scarica l'ipad ci stiamo chiedendo noi disse chi? figlio di Archesio il nome suo tipo Mario non c'è uno che si chiama no ed egli dopo aver invocato la figlia del sommo Zeus a lungo librò e poi scagliava la lancia lunghissima colpì e opite nell'elmo dalle guance di bronzo che non frenò l'arma passò oltre la punta rimbombando egli cadde su di lui le armi suonarono sui primi guerrieri balzarono Odisseo e il suo splendido figlio colpendo di lancia e di spada a due taglie tutti li avrebbero uccidi e privati del ritorno se Atena la figlia di Zeus non avesse gridato arrestando tutta la schiera fermate i tacesi la guerra tremenda e dividetevi presto senza versare altro sangue così Atena gridò e il terrore li colse dalle mani le armi volarono tutte cadero a terra quando gridò la dea alla città si volsero allora per cercare scampo ma urlò paurosamente il divino Odisseo e si lanciò con un balzo come un'aquila dall'altissimo volo allora il figlio di Crono Zeus scagliò un fulmine fosco cadde davanti alla dea figlia del padre possente e Atena dagli occhi lucenti disse a Odisseo figlio di Lerte divino Odisseo ricco di ingegni fermati cessa la guerra crudele non sfidare l'ira di Zeus figlio di Crono dalla voce possente così disse Atena ed egli obbediva lieto nel cuore poi tra di loro stabilì i patti palla di Atena la figlia di Zeus che a mentore somigliava nel volto e nella voce e così finita ha capito bene tutto però secondo me come faceva a entrare la droga in quel posto lì perché cioè si sono tirati lampi i fulmini la roba lui ammazza questo che arriva che è lui che è Ulisse arriva e ammazza tutti quelli che sono lì che aspettavano i famosi procci quelli che abbiamo detto e poi arrivano i parenti che gli hanno ammazzato i figlioli allora uno arriva lì fa il figlio dice adesso ci penso io gli tene una freccia lo impianta subito secco e gli altri dicono vabbè abbiamo scherzato questa è la parola cercano di fuggono verso la città Ulisse va per inseguirli e per uccidere tutti ma Atena dice basta non sfidare anche di Rezeus già che hai sfidato l'ira di Poseidone per cui ti ha costretto a viaggiare sul mare altrimenti staresti tornato in casa però è molto allegra tutta sta storia finisce in questa maniera non in minore ma come una cosa che deve continuare non è la fine di un romanzo no? che in genere avrebbe dovrebbe avere un segno epico no finisce dicendo Ulisse fu fermato gli disse fermati adesso bisogna fare i patti quindi fare un'alleanza questo disse lei travestita da mentore che di mentore aveva la voce punto finisce in questa maniera quindi lascia un po' tutta l'odissea dall'idea soprattutto questo finale di essere un passaggio verso qualcos'altro questo qualcos'altro cos'è? è quella seconda odissea a cui alludeva Sergio di cui vorrei parlarvi prima 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 vorrei che questo dissea è bello perché racconta sta roba e si addormenta da solo vedi che non ce la fa no questo è il secondo odissea che viene annunciata da nell'undicesimo canto che vorrei leggervi come viene annunciata siccome viene annunciata da Tiresia il quale dice tu farai questo e questo ripartirai da Itaca dovrai trovare un posto dove non conoscono l'uso del remo dove non conoscono i cibi conditi col sale quando incontri qualcuno che ti dirà cos'è quella roba che ti porta in spalle è un ventilabro il ventilabro è quell'oggetto una pala che serve a tirare in alto il gran turco il mais per cui il vento un labbro è bello sembra la pariette un ventilabro 40 labbro porta via la buccia e rimane il grano come a Varese Ligure sono quelli che non sanno dove è il mare talmente lontani dalla cultura del mare da scambiare la pala per questa cosa qua fermati sei al centro di un'altra odissea un'odissea sulla terra ferma e allora lì farai un sacrificio al dio che hai offeso che è Poseidone Nettuno l'hai offeso perché hai accecato suo figlio Polifemo eh non si fa tutte le battaglie specialmente se gli levi un occhio e soprattutto se c'era uno poverato non è che puoi stare di tutte le battaglie tra dei e uomini il mito si svolge nel risolvere il conflitto col Dio quindi il problema non sono i proci per lui di sé è il conflitto col Dio quindi giustamente dice incontrerai questo luogo misterioso e la farai un sacrificio e poi la morte ti verrà dal mare questo dice Tiresia perché lo dice non perché fa il prequel del seguito dell'odissea che scriverà Baricco tra due anni non è questo la sua insaputa ma perché già c'era prefazione di Farinetti già c'era già c'era questa storia c'era questa storia che era nei racconti dei cantori erranti degli aedi di quelli che andavano in giro a raccontare era già esisteva e ne abbiamo delle brevi piccole tracce di cui vorrei dirvi qualcosa però prima vorrei dire un'altra cosa che l'odissea è stata presa sempre come punto di partenza per ogni racconto contemporaneo ogni racconto contemporaneo avete presente Joyce e via discende scusa prima che dici la cazzata finale vorrei parlare anche io del mare processo costa concordia schettino ha detto ai naufraghi ho dato il massimo per voi sono pure sceso per primo in acqua per sentire se l'acqua era fredda questa mi piace mi sembra che sia una cosa epica cioè mi sembra c'è anche l'applauso mi sembra bello dopo che ha letto tutta quella roba lì e l'applauso l'ho fatto a me capito? benissimo l'ho fatto anche pescato i mari va bene il viaggio per mare è diventato quello di disse il prototipo dei grandi viaggi di formazione di tutta la letteratura a seguire l'uomo che parte e va all'avventura e lo scenario del mare è uno scenario che ha suggestionato moltissimo sentite queste parole quando parlano dei pesci no? le acciughe in questo caso siamo arrivati in tutti i mari a tutte le profondità abbiamo visto tempeste e battaglie navali parlano le acciughe polene sotto prue arabe e crociate inseguirsi sulle onde del mediterraneo passato notti insonni nei mari del nord galleggiando immobili per contemplare la bellezza delle aurore boreali ci siamo immerse per farci cavalcare da terribili tsunami contaminare da voi uomini stupidi test nucleari dopo essere state testimoni delle guerre tra dei e titani arrivando ad essere le ancelle delle sirene che non sono né un equivoco né una leggenda ci incontriamo con loro ogni anno in una cerimonia segreta sulle scogliere di cornovaglia per farci tramandare la storia degli argonauti in una grotta marina dove sulla parete è rappresentata una sirena che tiene in mano una mela cotugna e nell'altra un pettine le sirene ci raccontano cantando la nascita di Afrodite e omaggiando in cori sacri la dea Derceto mezza donna e mezzo pesce madre di Efeso e Semiramide e quando arriva Poseidone dio del mare e dei terremoti siamo le uniche creature marine che possono ballare cantare intorno al suo tridente e fargli il solletico alla barba anche Tritone il suo figlio e gli Ippocampi adorano la nostra ballata quindi adesso smettetela di romperci la minchia che peraltro non abbiamo e soprattutto smettetela di spruzzarci addosso il limone prima di mangiarci che ci va sempre a finire negli occhi ecco questo è non l'hai letta bene non l'hai letta bene la ballata delle acciughe non l'ha letta bene e qui abbiamo questa rivelazione cioè allora vieni che raccontiamo il tuo libro e il libro di un altro che si chiama Omero io pensavo ci fosse un altro stasera che si raccontasse i libri invece aveva rubato il libro e questa roba quindi hai sentito questa presenza del mare Omero certo noi siamo spezzini siamo lì andiamo alle cinque terre c'è le sirene che in realtà pensiamo che siano le turiste che vengono d'estate che fanno vedere solo le tette perché poi hanno la coda sotto chiaramente e si cazzeggia lì in questi posti fantastici dove si si va in giro e si fanno queste cose qua tipo si bruciano i libri si da fuoco la sera nei falò si limona eccetera eccetera siccome io sono maschio ma non esercito diciamo che sto a vedere queste scene però quindi l'epica ti è arrivata come uomo del Mediterraneo certo è un romanzo epico in qualche modo non lo sapevo ma se mi dici così sì in realtà è la storia di un viaggiatore di un narratore che è uno di un bar che prende parte con un gruppo di amici che sono quelli nel bar perché il bar come era quello forse di Ulisse dove abitava lui il bar che lì era una taverna chissà cos'era il bar è il centro di igiene mentale omeopatico che riacchiude tutti quelli che fanno nel bar cioè la psichiatria imperante e quelli più fuori dal mondo e lì sono protetti dagli dei invece da noi quelli più pochimuniti li protegge il barista che danno gli da le pillole precise la madre le lascia e loro mangiano queste acciughe che nei bar in Liguria danno le acciughe gratis attenzione in Liguria perché danno gli asciughe gratis perché mangi un asciughe a sottosale e bevi una settimana di fila al bar quindi questa è l'idea tant'è che in Veneto fermi tutti in Veneto io sono stato parentale di Veneto danno un'altra cosa che è terribile la manciata di sabbia forse è la cosa peggiore ma in Veneto danno l'uovo sodo che non c'è niente di più impastante dell'uovo sodo e io ho visto l'altra sera a Padova in un posto che si chiama Baccaro non mi ricordo era mezzo uovo sodo con l'acciuga sopra cioè il top del cioè quindi pensa come fanno i negozianti per far bere la gente anche a tempi di Omero magari poteva essere però il fatto è che la tua mediterraneità ti ha forse inconsapevolmente spinto a scrivere una piccola odissella forse è Omero che mi ha copiato tanto per cominciare vorrei dirlo però in realtà in questo bar dove ci sono tutti anche quelli tutti i personaggi da bar quello che è stato rapito dagli UFO cioè in tutti i bar quello che gioca col flipper per non farlo andare in tilte con delle pulegge ci sono tre omoni giganti come dei guerrieri però c'è il viaggio di lui che incontra e lui perché muore un amico e per un testamento deve andare a vedere cosa c'è in un luogo mitico magico che è una specie di percorso un camminamento laico però spirituale ma laico che non è Santiago dei Composti ma è Woodstock cioè è uno che parte non va a Troia ma va a Woodstock e va a Woodstock e trova tutte le cose vedi quindi c'è la morte dell'amico c'è l'elemento del viaggio c'è una serie di figure soprattutto c'è il flipper che non c'è nell'Odissea il flipper non c'è ritornando permetti quindi è interessante possiamo sviluppare parlando di libri devo dire questa arrestato a Roma il capo del clan Moccia appena in tempo stava per scrivere un altro libro che mi piace saperlo perché voglio dirlo che è un rivale nella tua professione ormai ma poi c'era anche il racconto di Rubi Rubacuori sono stata violentata a nove anni da mio zio indagato Mubarak questa mi piaceva sempre perché bisogna ricordarsi le cose se no le perdiamo cazzerone le perdiamo desideri un dolce ritorno illustre Odisseo dice Tiresia dopo che Ulisse è andato siamo nell'undici solo un attimo perché così accostiamo anche la cosa religiosa cioè Papa Francesco ha detto vorrei una chiesa povera cominciate a pagare l'Imu poi vedrete come si ride dopo è bene ah beh c'è una cosa vedi che cosa è desideri un dolce ritorno io? no illustri Odisseo ah scusate pensavo già di secondo me dice Tiresia dopo aver bevuto il sangue ma Tiresia chi è? Tiresia l'indovino cioè indovinare chi è quindi cioè indovino che che sa tutto e legge il futuro lo legge essendo anche lui defunto è una cosa molto allegra il nostro eroe se ne va nell'Aden è piena di queste figure e c'è una scena meravigliosa cioè lui deve fare un fossato davanti a sé lo fa con appunto della spada e versare del sangue di vita come la banca intorno a te quando fa cosa quella che è gata là è un po' così bravo cerchio magico sarebbe e quindi c'è un gesto di magia profondo perché il magico è quello dove c'è il trotta il primo pesce senza fosforo tra l'altro lo stiamo a dire sempre visto che si parla di acciughe è la digressione che è il viaggio e una volta che c'è il sangue dentro 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 il fosso appaiono le ombre dei defunti una accanto all'altra affollando si vogliono tutte sentono l'odore del sangue come ieri è una cosa antichissima questa il defunto possiamo accendere le luci e a quel punto si proprio cercano di farsi largo l'un l'altro ma lui li tiene lontano con la spada come gli è stato detto di fare finché non vede Tiresia e a Tiresia permette di bere il sangue degli animali che ha sacrificato e una volta bevuto il sangue si ravvivano col sangue vampiri sono come i vampiri come i vampiri e gli dice cosa vuoi sapere da me dice voglio sapere il mio futuro e gli parla voglio sapere i globuli rossi lei gli dice desideri un dolce ritorno illustri Odisseo ma te lo farà aspro un dio perché credo che non sfuggirai al dio che scuote la terra che contene l'animo e incollera sdegnato perché gli accecasti il figlio ma anche così potresti arrivare pur subendo sventure se sai trattenere l'animo tuo e dei compagni appena avrai spinto la nave ben costruita sull'isola della Trinacria sfuggito al mare viola e troverete le vacche al pascolo e le greggi pingui del sole che vede ogni cosa e sente ogni cosa se queste greggi le lasci illese e pensi al ritorno potrete ancora arrivare a Itaca pur subendo sventure se però le molesti allora prevedo rovina per te per la nave e i compagni e tu seppure ne scampi tardi ritorni e male perduti tutti i compagni sopra una nave straniera e a casa trovi dolori uomini prepotenti che ti divorano i beni corteggiando la sposa e facendo le doni ma tornato tu punirai la loro violenza e quando nelle tue case i pretendenti li avrai sterminati con l'inganno o di fronte con la guzzo bronzo prendi allora il maneggevole remo e vai finché arrivi da uomini che non sanno del mare che non mangiano cibi conditi col sale che non conoscono navi dalle gote purpure né i maneggevoli remi che sono per le navi ali e ti dirò un segno chiarissimo non potrà sfuggirti quando un altro viandante incontrandoti dirà che tu hai un ventilabro sull'illustre spalla allora confitto a terra il maneggevole remo e offerti sacrifici a Poseidone signore un ariete un toro e un verro che monta le scrofe c'è anche un video? torna a casa e sacrifica sacre e catombi agli dèi mortali che hanno il vasto cielo e a tutti con ordine per te la morte verrà fuori dal mare così serenamente da accoglierti consunto da splendente vecchiezza intorno avrai popoli ricchi questo senza errore ti annunzio e quindi lui dice che la morte gli verrà dopo questo rituale quella cosa che hai già raccontato prima o sono io che ho un ictus mi pare di un capillare cioè l'hai già raccontata questa però te l'ho letta come l'ha detta Omero fuori dal mare fuori dal mare così serenamente da accoglierti consunto da splendente vecchiezza una volta che lui quindi sarà un re che governa quel popoli intorno arriverà alla morte sta morte arriva abbiamo detto il poema in questione però si è perso altrimenti ce l'avremmo c'era già ma non ci è arrivato come si chiamava si chiamava telegonia va bene perché era tipo Hagon Channel quella roba lì telegonia tipo? l'agonia della televisione telegonia alcuni dicono telegonia mobile ma non è questo che come tu sai ci sono arrivati soltanto due versi praticamente citati da cinetone uno è non si vede una mazza e l'altro non prende la parola da cinetone di Sparta e da Eugammone di Sirene ah volevo dire Eugammone ma non mi veniva Sirene siamo nel 631 avanti Cristo grossomodo ah occhio che mese? siamo a marzo poi c'è la Crestomazia di Proclo Eugammone di Sirene poi c'è la Crestomazia di Proclo che ci dà una specie di riassunto di questa storia dalla quale ma ci pensi quegli anagrafe che risate alla mattina che ci facevano eh? arrivava di uno che diceva vorrei chiamare il mio figlio Eugèkenekene ma che vittima ma dicevamo guardi ecco compri una vocale e questa telegonia non c'erano ancora i logopedisti diciamo insomma non c'era grossomodo per quello che se ne sa da questi riassunti o meno era una specie di di poema che quello che non ci è arrivato che diceva questo cioè che avendo Ulisse ha avuto un figlio da Circe quando è stato a lungo per due canti interi circa un anno da Circe ha avuto un figlio che si chiamava Telegono certo che era facile che era con l'antennista del paese Telegono una volta tornato a casa va bene non l'abbiamo mai fatta sta cazzata lo dico così eh cioè perché e poi dopo se ne va a fare i suoi giri quella secondo di sé i tetti certo torna a casa e Telegono intanto è cresciuto e vuole incontrare il padre e Circe gli dice che il padre è Ulisse e lui dice voglio partire a incontrarlo a Ittaca e allora la madre gli regala una lancia fatta fatta da perché prendeva meglio cioè è proprio una lancia la cui punta era una 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 punta una punta di razza una razza una spina della razza che razza era? la razza la razza il pesce razza che è un pesce velenoso e la punta l'ha fatta con quello sì erano divertenti sti ragazzi facciamo questi scherzi dettaglio da non sottovalutare quindi parte con questa lancia avvelenata e naufraga è un fatto di famiglia quello di naufragare non c'è certo disorientamento è lo schettinamento perpetuo proprio e dove naufraga naufraga il nostro telegono naufraga dice davanti a Capodistria il telegono naufraga cosa hai detto? non te lo dirò mai così mi impari è un nostro segreto cazzo no naufraga davanti proprio a Ittaca anche lì vicino e quindi raggiunge senza sapere chi è Ittaca ma pensa perché questa isola e così come era abitudine ma un ton-tom cazzo questo un ton-tom che erano anche tutti un po' pirati che quando arrivavano nei posti rubavano quello che potevano animali in compagnia bella come ha fatto anche Olisse in più di un'occasione si vede appunto le vacche dedicate al sole della Trinacri che vengono nella precedente lettura hai una testimonianza di che tipi fossero questi marinai vagabondi più o meno sospinti da tempeste infatti Tiresia dice voi arriverete in Sicilia lì ci sono delle vacche sacre il Dio sole se voi le mangiate non tornate più a casa e loro la mangiate e Olisse tiene lontani tutti poi si addormentano e l'equipaggio si mangia le vacche a quel punto il Dio si arrabbia quindi questo vuol dire che erano anche pirati quando arrivavano gli occupaggi delle navi la gente scappava tendevano a saccheggiare siamo a Genova Davide vorrei dirti non è che siamo in Valtellina qua certo per cui sapete allora il figlio Telegono naufragato a Itaca che non sa essere l'isola del padre che cerca ruba degli animali mangia una vacca e il re Ulisse che non sa che quello che sta rubando degli animali è il figlio Telegono e il figlio non sa che lui è il padre a volte succede a affrontare il ladro il quale ladro va bene ha un'arma molto potente che è questa lancia colpisce Ulisse con la lancia e Ulisse stramazza a terra ammazza il figlio il babbo che non sapeva che era il figlio per cui è avvelenato Ulisse e mentre muore rivela chi è e allora c'è una grande rivelazione perché Telegono scopre che ha ucciso il padre e allora scende giù l'emaco con la madre che è Penelope Penelope e si riuniscono intorno al moribondo Ulisse che defunge quindi in famiglia abbastanza serenamente lo portano da Circe a seppellire fanno quindi una bella altra viaglia ma loro ricreazioni non la fanno mai no ma sono bella come storia vanno da Circe dove Circe seppellisce insieme a loro Ulisse Ulisse l'amante marito e compagnia bella e i due clan si sposano cioè Telemaco come il patto del Nazareno eh sì Telemaco in questo poema Telegonia sposa Circe e Telegono sposa Penelope e intanto Circe li ha fatti anche diventare immortali con una specie di balsamo che gli ha dato però come vedremo tra un attimo Pastorin si fidanza con Grillo e la Paita va con Imperio Moscaiolo questa è la cosa una dei finali di queste storie che erano a incastro che erano come dei canti che si intrecciavano l'un l'altro che erano contemporanei si dice quindi come questo è comprensibile che questi due clan no i clan di Ulisse di Circe e viene fuori il clan clan insomma questo è il problema si 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 atteleggono con Penelope e Telemaco con Circe la versione successiva di cui vorrei dare ma la famiglia normale non c'era come naviga poi questo mito male abbastanza male perché nel 300 circa a.C. siamo in epoca alessandrina grossomodo Dario tu mi insegni siamo dalle parti di Alessandra queste cose qua si vicino a Vercelli Alessandra così qua sopra diciamo Licofrone 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 è questo animale mitologico che se ti prende ti mangia Licofrone un boccone Licofrone Licofrone ti mangia un boccone che scrive la Alessandra che sa anche scrivere il primo animale ma c'è un altro libro lì ma anche te la Alessandra ma te per Musa non ci sei mai andato di Licofrone e più libri l'avanti che manco cacciare Licofrone scrive la storia di Alessandra e Alessandra chi è? è chiaro è Cassandra una delle figlie di prima la quale aveva il dono e la profezia però è un dono tremendo perché siccome aveva avuto uno screzio con Apollo ma screzio è il fratello? no screzio Apollo l'aveva condannata a dire il vero no ma a non essere creduta per cui Cassandra stessa Berlusconi che è obbligata a dire il vero e tutta la sera dice mi va la figa mi va la figa continuamente cioè Berlusconi fantastico ma come si chiama quell'altro l'animale? solo non si vedono i Licofroni come si chiama? Licofrone racconta in questo poema intitolato Alessandra che è Cassandra fa dire a Cassandra i ritorni degli eroi e ecco in questa fonte quindi 300 anni dopo che troviamo un'altra descrizione di altri poemi perduti in cui si racconta oltre al finale di queste coppie che si riformano Telemaco Circe Telegono Penelope il clan che si riforma anche un ulteriore drammatico finale nel quale Telemaco che ha sposato Circe se la fa poi però con la figlia di Circe quindi la sorellastra che non era figlia di Ulisse e la sorellastra non potendone più di questo invadente signore che gli sposa la mamma lo sgozza per cui il finale della storia di Ulisse secondo questo ricofrone secondo il racconto di Cassandra è un finale drammatico perché Ulisse per Cassandra è il nemico è quello che con l'inganno ha fatto cadere Troia che era la sua città lei era la figlia del re di Troia per cui in questa storia viene punito del suo empio crimine di aver tradito la fiducia dei troiani Ulisse con l'inganno del cavallo e mentre muore saprà che il proprio figlio è stato ucciso sgozzato dalla sorellastra quindi questa è la condizione è quello che ha ucciso il padre con la lancia con la palla no è l'altro è l'altro figlio è il figlio di ho sbagliato pagina ma dopo questo tuo test che è un test sull'Alzheimer cosa ci vuoi dire voglio dirti che questo qui è il modo in cui il racconto di Ulisse viaggia in contemporanea perché mentre era composto il poema dell'Odissea c'era anche il poema del secondo viaggio di Ulisse sono cose contemporanee altrimenti Teresia non potrebbe dire quello che sa essere successo dopo la battaglia dei Proci e Ulisse e in questo alternarsi c'è un mito che si muove è bello quando dici qualcuno si chiederebbe non guardare me perché io non ho capito più niente che è un mito che si muove questa figura e arriva fino c'è il mito che si muove e arriva al licorno e se lo mangia e arriva fino a novecento perché il problema di questo secondo viaggio lo riprende anche Giovanni Pascoli ma prima di leggere qualche cosa di Giovanni Pascoli vorrei che tu di nuovo entrassi nel merito va bene della 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 su Grillo che siamo a Genova il mare che a Parma è partito l'inceneritore anche se Grillo aveva detto dovranno passare sul cadavere di Pizzarotti che evidentemente aveva chiesto di essere cremato ecco lo dico perché a me non ci mettiamo insieme ma vorrei che anche tu a questo punto il problema dell'eroe l'eroe l'eroe la figura dell'eroe che passa al di là delle trame delle storie come abbiamo visto l'odissea fonda il primo grande racconto on the road diciamo come il mio libro che adesso mi ha copiato tutto tendeva a te ecco diciamo voi siete qui per questo come Ulisse lancia crea il racconto dell'eroe a tappe anche Gino e che si aumentano queste avventure a secondo dello scrittore che riprende il mito che racconta che continua e il tema del viaggio e di cosa sia viaggiare avere delle esperienze ritorna in pascoli poi come vedremo come una meditazione sulla possibilità di ripetere o meno le esperienze del passato ma vediamolo dopo però è il tema dell'eroe che ci interessa perché il tema è l'eroe e quindi forse anche tu hai trattato chi è per te l'eroe perché c'è l'idea di questo che deve partire per un testamento ma anche tu tu come ma io come 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 scrive anche roba sua cioè noi che scriviamo queste grandi opere c'è della biografia in questo essere eroe e anche dei grandi orori di ortografia ma detto questo come si dice c'è nel mio caso questo povero Gino che è uno statale di Spezia che prende parte mandato perché deve onorare un testamento di un amico che è morto forse suicida se no vogliono tutti lì cazzarola da me non muore nessuno e mentre fa sta cosa parte e va là e succede che anche lui però si ricorda delle cose da piccolo quindi comincia la lontananza gli fa vedere le cose quelle da lontano le vedi più vicino cioè adesso anche io parlo come te che non si capisce una mazza cioè succede che lui è lui un eroe il povero Gino come siamo tutti un po' eroi in casa specialmente i figli unici i figlioli sono tutti eroi abbiamo delle mamme un po' folli io dico io vado in giro ancora adesso con la canottiera perché sono figlio unico mia mamma era talmente protettrice pensando che fosse chissà anche un eroe che andava a cercare il sacro grallo o qualcosa invece facevo lo statale basta quindi stavo benissimo cioè mi ha messo la canotta da sempre io ho il 25 aprile per me la liberazione della canotta di lana cioè questo mio giorno preciso e vado in giro con quella di Fortuni l'eroe nasce da un'attenzione della madre allora mia mamma era una donnina che stava a Pignone faceva la contadina ha sposato mio papà un altro eroe di Corniglia si sono uniti in questa cosa stramba e sono nato io e mia mamma mi aveva sempre pensato che fosse chissà che cosa doveva mantenere in avanti questo casatto cioè mia mamma lavava le scale con mio papà dicevano delle cose fuori dal mondo cioè mia mamma andava a servizio a lavare le scale in casa di ingegneri architetti avvocati assorbiva dei vocaboli di cui non sapevo il significato una volta a tavola io e mio padre diciamo bisticciati come Ulisse col babbo è arrivata mia mamma ha dato un pugno sul tavolo e ha detto basta quando fate così mi fate riuscire un orgasmo ha detto che pensavamo che fosse una cadastra mio papà mi ha guardato e mi ha saluto affinché ci riconosce perché c'era anche questa no però la parte è così allora io ve lo dico perché lo dico per le presenti cioè io casa mia era una casa molto povera 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 c'era una cucina piccolina dove davamo di passaggio un bagno piccolo piccolo dormiva in questa sala però per mia mamma era una cosa meravigliosa io dormivo in questi letti a ribalta questi letti che ogni tanto quando ti alzi di notte ci sentiamo stati avete provato l'ebbrezza al letto a ribalta ti alzavi di notte ogni tanto a fare la pipì tornavi non c'era più il letto e stavi dici che cazzo quale sarà il dio che mi ha nascosto il dio e stavi e non capivi dove cazzo dovevi dormire perché accendevi la luce e si svegliava l'origine del mito è così esattamente e allora mia mamma cosa faceva è lì che mia mamma questa casa era molto fredda il terrore quindi il nemico era il freddo mia mamma che soffriva d'asma e non voleva che mi ammalassi come lei succede che mia mamma hanno messo nella sala due stufe due una a che Rosene che si chiamava Argo e di qua il mito cioè e di qua Argo che brucia sempre brucia sempre e tra l'altro la stufa scodinzolava non ho mai capito perché però c'era la stufa stiamo dicendo cose a cazzo però mi diverto dall'altra parte una cucina economica a legna e mio padre la caricava andando sui boschi come se fosse l'Amazzonia ci sboglieva tutto tagliava tutto e caricava sta stufa allora andavano a letto poverini loro due lasciando l'infante di Spagna che ero io questo personaggio così quello che doveva andare a cercare il santo graal piuttosto che chissà cosa perché avevano paura che mi raffreddassi io stavo lì a letto mettevano sul letto perché per farmi ancora più caldo avevano paura che allora a me mettevano anche tipo 4-5 coperte quelle della marina militare quelle blu quelle blu spesse così come un sepolcro di marmo pesava 30 kg non fanno caldo però 4 sopra non ti potevi muovere e manevi un po' fermo così dentro queste piattaforme azzurre con l'ancora questa roba qua e iniziava la stufa a fare il suo lavoro e iniziava questo miracolo della fisica e cominciava a diventare questa stanza da meno 2 gradi cominciava a essere 5 dopo un po' diventava 7 15 22 dicevi cazzo le canarie 28 perfetto 31 cominciava a sudarti un po' i coglioni cioè diventavi un po' così 65-70 avevi le visioni come lì come gli sciamani vedevi facevi vedere le guerre erano sacrifici agli dei non mi caga neanche sarà stronzo tra ore che sto a sentire le cagate sue allora lì manco mi caga a me vabbè vaffanculo bene te e se non fonte la come cazzo si chiama quindi succedeva che in questa nottata diventava la stanza una specie di come si chiamava come fosse una serra per semenze per orchidee sembrava una cosa come in Norvegia quel cazzo dove scaldano tutto che muore le saune così molto povere poi uscivo perdevo tutti i liquidi evaporavo sui 100-115 lì era perfetto non capivo più niente uscivo da queste coperte stratificate perché ormai era una sottiletta mi attaccavo al muro come un gecko attaccato così con le ciglia tutte ci spose a 120 così 120 gradi arrivava mia mamma apriva la porta mia mamma la mattina che non aprivano la porta per paura che qualche grado finisse da me ci mancherebbe altro infatti è morta lei d'asma come una tragedia e a un certo punto mia mamma entrava e la vedeva con quegli occhi ci sposi e entrava a questa specie strano personaggio una specie dio titano a questo punto perché aveva dei guanti da saldo brasatore con delle pinze a mano e teneva delle cose in mano e le metteva come il vello metteva sulla stufa le calze di lana le mutande di lana la canota di lana le calze di lana le mutande di lana aveva potato un greggio durante la notte una famiglia sarda rubata aveva tessuto questa roba come Penelope e faceva molto epico mi vestiva così con queste canote incandescenti perché le levavo al volo dalla stufa stracchete me le metteva adosso se no mi raffreddavo capisci no e mentre faceva questo passaggio mi ostugnavo mi ostugnavo molto ero molto ostugnato bruciavo tutto ho inventato la ceretta solo questa roba qua mi riempiva era una specie di piccolo piccolo una specie di cose laviche era una specie di magma chiuso così e con sto caldo da morire uscivo fuori dalla porta mio padre mi aspettava già e non c'eravano i soldi non c'eravano mai c'eravano la Vespa c'eravano la Vespa 150 Gran Turismo Rossa che è descritta molto bene anche nel libro il mio destriero era quello salivo su questa cazzarola di Vespa con un giubbotto da navigazione quelli chiusi fino a così fumavo fumavo già fumavo così mio padre metteva anche i giornali qua dentro ma prendevano fuoco non riuscivano la volta era una calcificante e partivo verso la scuola partivo verso la scuola e dopo 15 metri tra fuori c'era meno 20 nel canalone dove stavo io e io dentro ero più 130 ci vuole un matematico 130 meno 20 e sono 150 gradi di escursione termica sarebbe morto Armaduc Zanna Bianca gli alpinisti sarebbero morti dopo 30 secondi io cominciavo a starnutire e moccicolo sul parabris di mio papà che girava girava e tornava indietro perché non c'era niente mi stava ammalando immediatamente sulla porta c'era mia mamma la madre dell'eroe pronta come tutte le madri a aspettarmi c'era una termocoperta elettrica che l'aveva inventata lei quelle cose lì e un bulacco da 60 kg di Vicks Vapor mi cosava come cose funebre mi metteva lì e poi diceva questa cosa qua diceva povero Nini mi diceva ma come farà ammalarsi così tanto e va a fanculo cioè applauso alle madri quindi un po' l'eroe l'eroe è questo questo è un vero eroe che è nel libro però cioè è il libro sempre nelle famiglie per darvi contezza del fatto che io non sto dicendo sciocchezze ma che l'icofrone esiste davvero è certo l'abbiamo anche visto prima calzerolico tanto a 30 versi vi dico ma quello che gli viene detto no dicono lei è figlia unica lo so infine cioè senza un lamento accoglierà i colpi quando si traveste da mendicante il corruttore Ulisse è un corruttore per lei ne sarà lieto accetterà di buona voglia i lividi per tessere un inganno ai suoi nemici e raggirare il re da vera spia con le piaghe e i lamenti infine come gabbiano in corsa sopra le onde come conchiglia e rosa in ogni parte dall'acqua salsa trovato il patrimonio consumato nei banchetti dei proci dalla spartana la moglie Penelo perché spartana colta da una follia di distruzione quindi di dadi zozzona a lei ma spartana è una zozzona rugoso come un corvo andrà a morire con le armi addosso nei pressi delle selve del nerito lontano dagli approdi lo ucciderà una spina di pesce sardo quello di prima quello questo che ci dice la tipa una punta mortale senza scampo con un colpo alla schiena e sarà noto che a macellare il padre sarà il figlio ma scusa la ripeti un'altra volta quello di prima te lo confermo ti confermo mi sembra averlo già sentito con parole mie questo è quello che scrive l'icofrone l'icofrone scrive questo che ti sto dicendo quindi tu davanti all'antico verbo devi trovare un brivido come davanti a un vaso antico e quando spirerà piangendo il fato del figlio e della moglie Ulisse ne accoglierà le spoglie il monte perge dei Tirreni quindi in Italia è sepolto la sposa sarà uccisa dallo sposo che dopo lei percorrerà la strada verso l'Ade con la gola squarciata massacrato da sua sorella una famiglia vedendo un tale cumulo di mali discenderà per la seconda volta nell'Ade da cui non si torna senza mai aver scorto nella sua vita un giorno di bonaccia quindi una grande maledizione sventurato quanto era meglio rimanere in patria a governare i buoi a collocare l'asino l'ascivo e il laborioso sotto il gioco piuttosto che affrontare l'esperienza di simili mali cioè lui dice se sapevo che finiva così ma ne stava a casa a coltivare le fave era molto meglio che lui non fosse mai partito questo era molto meglio che tutto non fosse già avvenuto o che senso ha ciò che avviene se quando se può avvenire una volta sola se noi non possiamo ritornare sulle nostre più belle avventure se anche le fotografie che ricordano le nostre eroiche i nostri passaggi più significativi poi sono solo simboli perché se ci torni anche con la memoria poi non ti ricordi o se ti ricordi non è più la stessa cosa si può tornare due volte sulle cose che abbiamo fatto questa è la domanda di Pasquale che poi siamo ormai insomma nell'ottocento di un oltrato prima il novecento così lavora su Ulisse e scrive questo il ritorno come nel viaggio l'ultimo viaggio che ha un poemetto di Casilla Bisciolti nel quale si immagina Ulisse vecchio ormai vecchio con la barba lunga capelli lunghi e tutti i suoi marinai a Itaca anche essi invecchiati tutti vecchi però cosa fanno questi vecchi se ne vanno se ne vanno costantemente c'è la nave la barca che hanno usato per fare le loro grandi avventure e la tengono lustrandola come se fosse una maserati un oggetto ci fanno dei banchetti vanno lì col vino e con la merenda dice proprio così con le donne che gli portano da bere e sotto l'ombra di questa nave parcheggiata immobile un ospizio per marinai parlano delle loro imprese passate e invecchiano così sono molto invecchiati e Ulisse ha in casa il timone della nave l'ultima cosa che manca Ulisse il Pasquale ci racconta così anziano con la sposa davanti al fuoco si assopisce sentendo il fuoco che crocchia nel cammino e dal crocchiare del fuoco Pasquale come fosse un po' un film immagina che lui si trovi in pieno oceano che il crocchiare allora è il crocchiare delle onde dei lampi e le faville che vede del fuoco gli sembrano i lampi e le stelle un vecchio rincoglionito un paio di volte si sveglia e gli sembra di essere di nuovo nel mare inseguito dalle onde di Nettuno fuggire con la veda a cui rimane attaccata magari attaccata a una tenda la moglie si incazza lascia stare con la cazzo di tenda una volta due volte un po' così due volte finché a un certo punto capisce che questo vuol dire qualcosa non solo ma gli sembra che le rondini che arrivano a primavera siano grida di marinai e quando si accorge che sono rondine capisce che è il segno deve partire deve partire ha fatto quello che doveva fare ha già fatto tutte le cose del remo in questione poi metto inizio fa sul catetere sgancia tutto è tornato a casa e zitto zitto scende dal letto mentre la donna dice vada a comprare le sigarette non si fa vedere nel letto fatto sull'albero d'olivo che aveva scelto lui di piallare per costruirci un letto sopra l'albero e prende il timone fa una strada non usuale per arrivare alla spiaggia incontra anche una contadinella e qui dice no sto vedendo un attimo ho sentito dire un rumore di là fa finta di niente non dice che va alla spiaggia lui sta vigilando con il timone in mezzo agli olivi si e fa finta di niente esattamente finché arriva davanti alla nave dove ci sono tutti i suoi soldati va bene come numero uno a Lanford dice signori siamo pronti a partire è il racconto il perché voglia ripartire e questi qui ripartono ripartono e dove vanno questo è l'Inps che lo vuole c'è anche un musicista che viene con lui e un altro che sale sulla nave io ti porto a vedere le avventure che ho fatto e ogni volta che arriva in un posto dove dovrebbe essere successo qualcosa Circe il ciclope lo sento l'occhio non trova niente ma dai trova degli echi dei suoni addirittura quando incontri il ciclope trova questa caverna e dici guardate ora faccio vedere guarda guarda ora c'è questa grotta e c'è una signora la moglie del ciclope piuttosto grossa come quelli del Cinque Terre un po' così che gli dice dove dicono uomini che sembrano feste e donne che sembrano uomini passò qualcuno tempo fa che c'era non lo so dice la signora forse il mio marito lo sa che è in giro con le pecole torna l'energumeno il contrattore e lui gli dice ma sa di qualcosa di un ciclope ma dice no veramente no c'è un vulcano qua che può somigliare un occhio arrossato ma perché è un vulcano che fosse un ciclope magari lo dicevo tempo fa quando non sapevano che c'erano i vulcani quindi racconta balle tutto quello che lui ha visto era un sogno forse nell'isola di Circe non c'è niente ci sono dei suoni che richiamano delle voci ma non c'è niente è un po' come il tuo libro che lui arriva lì fa tutto sto viaggio alla fine c'è un campo di pannocchie è bravo e non c'è una mazza con delle mucche che siccome sono sul campo di Woodstock e in quel campo di Woodstock un milione di persone ha fatto di tutto è fumata ha seppato tutto c'è rimasto sul terreno delle cose strane e crescono pannocchie abbastanza strane tant'è che le mucche sembra che cantino di notte nella stalla e vitelli ridono parecchio dicono questi qua quindi c'è questa roba qua a questo punto lui si lancia verso le sirene l'isola delle sirene veramente arriva un'ambulanza con la sirena secondo me e la porta via e morirà infrangendosi contro gli scogli delle sirene a cui domanda che senso ha tutto questo cioè stiamo qua da quattro ore per raccontare questa roba l'hai buttata così ditemi che cosa che cosa è quello che ho vissuto e loro non rispondono quindi lui morirà e il corpo avvolto dalle alghe e questo vecchio ha una barba bianca finirà in un ristorante cinese no finirà nell'isola di Calipso da cui gli dei lo avevano richiamata perché come è noto lui se ne stava la discoteca la Grecia e Calipso è innamorata e lui e gli dice perché vuoi tornare Ulisse io ti renderò immortale no voglio tornare perché no la mia vita non è qua non è nell'immortalità è nel viaggio è nella famiglia è nella casa nel tornare a una casa altro simbolo su cui sono stati scritti fiumi di libri però e gli dei obbligano Calipso a lasciarlo partire così Calipso sente un giorno lo stesso suono lo stesso uccello che aveva preannunciato l'arrivo di Hermes che gli diceva fai partire il tipo Ulisse e capisce che succede qualcosa e Ulisse che torna morto ma tutti morti sempre sto libro e lei vedendo questo vecchio che ha fatto tutte queste cose e che trascinato come un relitto ritorna al punto in cui poteva rimanere sempre felice dopo aver non solo fatto tutto quello che ha fatto ma anche capito che tutto quello che ha fatto non sarebbe mai più tornato averlo cercato non averlo trovato lancia una specie di maledizione è meglio non essere mai nati che pensare e assistere a tutto questo di questa storia vi leggerei il momento in cui lui arriva dagli amici e gli dice ragazzi bisogna ripartire il famoso momento che poi peraltro anche in Dante è nati non fumo a vivere come bruti in questo caso speriamo che non la trovi 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 l'ha trovata? senti mentre la cerchi siccome parli di morte allora io ti faccio delle cose siccome sulla morte ho anche io scritto delle cose fantastiche sulla morte sul discorso satira nessuno dice mai niente siccome i ragazzi sono un po' spenti vorrei dire che una volta che era morto un signore io mi sono trovato a fare una battuta perché le battute eravamo fatte su tutti eravamo con la Dandini che tra l'altro per sapere quanti anni la Dandini gli ho fatto fare il carbogno 14 da Ristiparma una volta volevo stegarla in due per contare i cerchi non ha voluto però era morto un signore di 96 anni che curava tutte le voci dello zingarelli del vocabolario della lingua italiana io sono andato a Dandini è morto un signore di 96 anni che curava le voci dello zingarelli del vocabolario gli ho detto allora gli ho detto le ultime parole sono state zuppa e zuzzurrellone e me ne sono andato ora è una stronzata da quella volta ogni volta che moriva qualcuno con un gruppo di autori squinternati ci mettevamo ogni volta che moriva qualcuno facciamo le battute su quello che moriva era morto non so e quindi abbiamo iniziato adesso non mi ricordo più però c'erano Arona quelle che non mi hanno fatto dire in televisione Arona trafugata alla salma di Mike Buongiorno quella di Baudo invece da marzo sarà su Ray 1 questa mi piaceva è morto l'inventore dello snowboard qualche difficoltà alla sepoltura perché San Bernardo continua a tirarlo fuori dai piedi questa mi piaceva questa era facile era morto Tommaso Padova Schioppa io ho detto Schioppa Tommaso Padova punto questa era facile era finita è morto Antonino Calderone il primo dei superpentiti di mafia le sue ultime parole finito lì poi ci sono poi vorrei fare una battuta qua quando è morto Don Gallo in sua memoria accenderò un sigaro alla Madonna un applauso a Don Gallo permettetemelo perché ci siamo e non ci vorrei e vi dico una cosa che forse non sapete a Genova straordinariamente Don Gallo mi chiamano mi chiamano di Domenico il mio ego mi chiamano e mi dicono Don Gallo sta male quelle che vedi io non so perché mi hanno chiamato io mi scoccio sono atto da Don Gallo Don Gallo seduto vestito da parroco senza questo sigaro in bocca ancora spento naturalmente il mio vicino stava male però ho seduto mi tira giù per una maglia per la camicia e gli dico adesso Don Gallo mi dirà le ultime parole di Don Gallo chissà quali saranno e giuro a me mi ha detto così mi ha tirato giù in un orecchio e mi ha detto è morto prima Andreotti to così mi ha fatto così lo giuro cioè era morto qualche giorno prima e gli ho detto non è morto Don è trapassato al gruppo misto cioè al volo a cazzate cioè si siamo trovati così e poi siccome era morto un signore l'altro giorno è morto uno che era l'inventore della brugola io ho detto è morto l'inventore della brugola la famiglia si è stretta intorno alla moglie ora è una cazzata che lo so ci tengo però questo è molto marinarischia e poi c'era morto un omonimo di Silvio Berlusconi sapete che era morto un signore di 51 anni di Silvio Berlusconi si chiamava Silvio Berlusconi è scivolato su una lastra di ghiaccio e è morto anche di sinistra era abbiamo fatto due erano queste qua Como un omonimo di Silvio Berlusconi scivola su una lastra di ghiaccio e muore è la dimostrazione che il voodoo non è ancora una scienza esatta questa è la prima che abbiamo fatto e l'altra veloce e rapida e quella che mi piace a me è morto un omonimo di Silvio Berlusconi Fuochino ecco questa qua mi è piaciuta più di tutte e l'ho fatta ci ho raccattato dalla morte hai visto? quindi anche parlando della morte ci si diverte insomma per nove anni ok è ripartito l'ho trovata va a fare aspettava la morte che gli doveva venire dal mare suave poi nel decimo sull'alba le rondini arrivarono dal mare lui dormiva sul letto traforato sostenuto da un ceppo d'olivo barbato a terra sognava marinai parlare sparsi per il mare azzurro prima css dice sempre la stessa è un eco e si destò con nell'orecchio ancora quel vocio fiocco ed ascoltò seduto erano rondini e suonava intorno la casa d'ombra del loro sussurro si gettò sulle spalle le pelli di capra ai piedi si legò le dure scarpe di Bove e sulla testa il lupo faceva nell'ombra biancheggiare le zanne e piano uscì dal talamo franno che non gli ha sparato un cacciatore piano uscì dal talamo perché non sentisse la moglie il cigolio ma lei teneva un sonno alto divino molto suave simile alla morte il timone staccò dal focolare affumicato e prese una bipinne che ho nascito la carioca rossa e blu ma Ulisse non si mosse verso il mare subito andò per colli irti di querce per un viotterello aspro e disse a un mandriano segaligno che per un pioppo secco era la scura e disse a una riccioluta ancella che per uno stabiolo era il timone così parlava il tessitor di inganni poi da solo deviò volgendo l'astuto viso al fresco alito salso e già l'eroe sentiva sotto i piedi non più le foglie ma scrosciare la sabbia e infine apparve avanti al mare azzurro l'eroe vegliardo col timone in collo e la bipenne e l'inquieto mare mare infinito fragoroso mare sulla duna lassù lo riconobbe con riso innumerevole dell'onde vide la nave c'era l'ombra lunga sopra la sabbia e sopra lei i bianchi tra mare e cielo galleggiavano striduli gabbiani e vide l'occhio dell'eroe che fresca era la pece vide dal righino alto di poppa sporgere le pale di ben fatti remi gli rise il cuore che pronta alla corsa era la nave e venuto alla prua rossa di minio sopra la sabbia vide assisi in cerchio i suoi compagni tutti volti al mare tacitamente godevano il sole e la primaverile brezza arguta che gli fischiava nelle bianche barbe e veduta la rondine le donne recavano alla nave alte sul capo l'anfore piena di fiammante vino ed ecco appena il vecchio eroe comparve tutti quanti si alzarono guardandolo ed egli sotto il teschio irto di lupo così parlò tra lo sciacquio del mare compagni udite ciò che il cuore mi chiede sino da quando ritornai per sempre per sempre chiese il cuore no rispose volle tornare non vuole morire potranno dentro una foresta i remi fare radici ritornare a beti no ne può la nera nave al fischio del vento dar la tonda ombra del pino così non vuole il rosichio del tarlo ma l'ondata il vento l'uragano anch'io la nube voglio e non il fumo il vento non il sibilo del fuso non l'ozioso fuoco che sonnecchia ma il cielo e il mare che risplende e canta compagni io sono come il nostro mare che è bianco all'orlo ma cilestro in fondo io non so che lasciai negli antri a mare ombreggiati da loro non so che lasciai nei prati molli di viola o dove erano cani d'oro a guardia immortalmente della grande casa dove basta lui spero della grande casa dove gli uomini in forma di leoni battevano le code nel vederci o non so dove e vi ritorno sonno è la vita quando è già vissuta sonno che ciò che non è tutto è nulla ora io mi voglio rituffar nel sonno se trovi in fondo dell'oblio quel sogno voi spalmaste la pece alla carena voi toglieste le pietre voi portaste la vela sulla nave addormentata voi portaste alla vostra ala di remo e adesso dunque alla ben fatta nave che manca più vecchi compagni al mare la vecchia nave amici ecco il timone così parlo tra il sussurrio dell'onde e poi direi che bravo bravo siamo finito è finita però è finito se vuoi aggiungere è finito nel senso che questo è Pascoli che cita tennis ma qui inutile andare no falo falo la gente si sta suicidando fuori hanno trattato e quindi l'idea di questo viaggio che riparte e soprattutto in questo caso qua che si viaggia una volta sola che le cose che si vivono si vivono devono vivere pienamente perché è l'unica occasione che abbiamo quella di attraversarle certo c'è una qualcosa che vuoi causare io leggo le due 142 pagine anch'io al contrario così viene fuori Satana e no provo a dire una cosa perché c'è qualcosa sui viaggi che qualcuno dimentica che uno viaggia e incontra delle cose incontrando c'è anche la possibilità di incontrare degli amori però se te sei già uno che a casa tutto sommato non hai mai tradito e sei un po' ipocondriaco con l'ansia con le cose lì c'è il rischio che non sai cosa fare il nostro buon Gino Sonofonte Gino e basta va in America scende di lì e arriva finalmente con l'aereo scende da quest'aereo e prende lui vuole un chopper ma in realtà gli danno la vespa rossa come quello di suo babbo va gli danno un sacco di botte subito gli Alsangel appena li vede perché lui dice cazzo che figata ma sbaglia a tradurre una cosa si avvicinano due gli danno un sacco di botte bruciano la vespa e inizia un'attenzione anche con lui parte con il naso rotto rovinato si incammina verso questa strada appena arrivato e fa l'autostop non si ferma nessuno tranne una macchina dove dentro c'è una bella mora c'è il primo personaggio femminile del mio racconto così tipo Omero e mentre lui entra la ragazza lui dice in macchina sorry I go into le dice the car my car dopo 20 minuti capiscono che sono italiani tutte e due e smettono di dire cazzate e lei lo porta a casa lei è una che insomma non ti lo sto a menare più di tanto lei e c'è un momento di corteggiamento perché il povero Gino è sì statale sì operaio però è uno di quelli che tutto sommato come Don Quixote dice ognuno ha diritto di amare e essere amato insomma è questo cervantesca come cosa quindi lui c'ha una cosa meravigliosa questa ragazza a un certo punto questa bella si mette sul divano questa bellona è un po' mora lo guarda e lo guarda mentre beve del vino rosso molto costoso e dice quest'uomo mi guarda con uno sguardo strano lui è appena arrivato da Spezia gli hanno rotto il naso gli hanno bruciato la vespa gli hanno dato un sacco di botte è completamente fuori dice mi guarda con uno sguardo strano forse vorrà cercare dei miei tormenti amorosi e darmi delle risposte lui in realtà la guarda completamente sfatto dice questa qua c'ha una quarta intera c'è il bottone che si respira ancora di più mi picchiano in occhio quindi si sposta per capire perché l'amore è un grande meccanismo come un grande orologio una grande ruota dentata dove noi siamo dentro ci muoviamo ma siamo fuori sincro di uno e non ci incontriamo mai però ci si vede c'è da un punto cosa succede che il povero Gino lei dice a un certo punto mi guarda in un modo strano e gli chiede una cosa gli dice lei cosa ne pensi strano uomo dal naso rotto cosa ne pensi dell'amore e lui che si statale, operaio, cazzaro e ognuno ha la sua dimensione però ognuno ha la sua dignità lui è anche uno che essendo ignorante però trova sotto il letto vede una ragnatela incontra Zobeide che è una delle città di Calvino ma lasciamo perdere c'è da un punto succede questa cosa strana lei dice a lui mentre beve cosa ne pensi dell'amore lui un po' si vergogna chiude gli occhi davanti a lei tira un sospirone e dice l'amore dal suo punto di vista e dice così l'innamoramento è quella cosa che ti prende indipendentemente dal sesso dall'età o dalla classe sociale è una roba chimica che parte dal cervello e ti rincoglionisce quando gli ormoni si fondono con le endorfine prodotte dalla ghiandola pituitaria e dall'ipotalamo scoppia l'atomica dei sensi suoni e odori si amplificano e quando passa la ragazza biondina più bella delle quartiere il glicine sembra fiorirti nelle narici i papaveri vincono l'ostalità degli anticritogammici diventando più numerosi del grano e riconosce l'odore che viene dalla terra dopo che cadono le prime gocce di una pioggia estiva nei canali fioriscono le calle i girini si trasformano i fiori d'angelo si arrampicano sui muri iniziano le giornate di maggio mentre i ramari dal verde lucente fugono su omorità secco inseguiti dalle bisce lui tira sto pippone mentre le aspetta che magari metta me addosso sempre con gli occhi chiusi e dice senza provare fatica continua a pedalare in mezzo alle piante di aranci selvatiche di corso cavur che al tuo canto miracolosamente si innestano e diventano domestiche il profumo dei fiori del limone e degli orti ti sorprende ti commuove la torta di mele di tua madre le giornate si allungano e ti passa la voglia di studiare in ogni libro che leggi trovi un'attitudine tra te la biondina più bella dei quartieri le poesie sembra scritte per te e per lei come se tutto il mondo delle arti avesse scritto dipinto e costruito per secoli solo per voi da primo del rinascimento l'universo sapeva che l'avresti incontrata le cattedrali i castelli le opere d'arte erano solo indizi che indicavano il percorso per trovarla quando la vedi passare il cuore ti scoppia lo stomaco si stringe e qua bisognerebbe dirlo a Doria quando due ragazzi si innamorano per strada e si incontrano dagli alberi scendono delle liane che avvolgono degli amplificatori della Bose e ma i song di Katie Jarrett si diffonde in tutta la città quando Letty sorride i fucili da caccia fanno celecca la fame nel mondo è debellata e la manna scende dal cielo l'arcobaleno diventa routine Gino apre gli occhi sentendo russare e vede Matilde ubriaca che dormiva punto e finisce perché non ci si trova però ha una bella descrizione amorosa perché l'eroe ama capito? l'eroe ama è finita ragazzi io speravo di tormentarlo ancora un po' se telefonate che c'è una bomba è il momento giusto ci fai questa poi basta? sì perché a me mi chiude il garage alle dieci e mezza anche perché la domanda che si fa adesso mentre lui fa questo lo dico che noi siamo Liguri un po' ci capiamo quando uno è sul palco io ho fatto l'opera io ho tutta la vita quindi uno sul palco vedete cosa pensa uno è quello che mi chiedevo io e quando uno è sul palco così specialmente in Liguria che è questa terra meravigliosa questa cosa qua dice c'è uno che sul palco pensa mentre fa queste cose fantastiche Omero ci sarà una cazzo di pizzeria aperta quando usciamo questo è quello che ci chiediamo perché a Spezia l'unica cosa aperta di notte l'unica luce accesa di notte è il banco di 2.26 un'ora e un quarto è giusto e Ulisse viene a Sanremo no e poi continua prima di Pasqua naturalmente con Dante no? ah il canto dell'inferno e Dante veniva raccontato declamato su musica intonato tant'è che c'era un fabbro si narra che cantava il fabbro sinatra si narra che cantava le cose di Dante scorpiando le parole Dante passò di lì e gli cominciò a buttare per terra i ferri ma lei cosa fa perché io rovino tu rovino la mia e io rovino la tua così tanto per rimanere in tema dove lavrava mia mamma quel fabbro lì tra l'altro dove prendeva le pinze quelle famose che era che era insomma la cantabilità i racconti sono fatti per essere detti a alta voce quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più di un anno là presso Gaeta prima che si Enea la nomasse né dolcezza di figlio né la pieta del vecchio padre né il debito amore lo qual dovea Penelope far lieta vincere potere dentro me l'ardore che io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore ma misi in me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna piccola dalla qual non fui diserto l'un dito e l'altro viti infine la Spagna fino il Marocco e l'isola dei Sardi e l'altra che quel mare intorno bagna io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segno li suoi riguardi a ciò che uomo più oltre non si metta dalla mantestra mi lasciai Siviglia dall'altra già mi avea lasciato setta oh frati dissi che per centomiglia perigli siete giunti all'occidente a questa tanto piccola vigilia dei vostri sensi chiede il rimanente non vogliate mancare l'esperienza diretto al sol del mondo senza gente considerate la vostra semenza fatti non posti a vivere come bruti ma per seguir virtude conoscenza i miei compagni feci così acuti con questa orazione piccola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti e messa nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non surcea fuori dal marinsuolo cinque volte era acceso e tante cassolo lume era di sotto della luna poiché entrati eravamo nell'alto passo quando una parve una montagna bruna per la distanza e parve mi alta tanto quanto veduta non avea alcuna noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percorse del ligno il primo canto tre volte il fegerar con tutte l'acque alla quarta levar la poppa in suso e la prora in giù come altrui piacque infinché il mar fu sopra noi richiuso le terzine di mogol bene salutiamo ringraziamo abbiamo finito dare vergassola ha raccontato l'odissea insieme a noi ah devi dare un tuo commento il mio commento intanto il commissario in sala non può completare il leggendo tutto questo sia il mio e l'odissea che sono due libri più o meno simili e ci tengo a dirlo tra l'altro il mio è in vendita fuori e lo firmo anche cioè non è che invece con l'altro è morto quindi devi dare una breve sentenza di modo che il funzionario può completare io devo dire una cosa i giovani soprattutto cioè l'odissea cosa ci insegna? ci insegna che è sempre meglio starsene a casa dove cazzo andate? arrivederci tutti meglio di qua dove andate? Riondino Dario Regassola grazie a Maifredi a tutti quanti all'amico che mi ha prestato la chitarra è l'ottimo e a te che gliel'hai scordata salutiamo Dante adesso entra grazie 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 bene visto che non ve ne siete andati facciamo i fratelli Karamazov no scherzo no troppo bacio a tutti buone cose grazie per la luce buona serata Riondino grazie ancora per me e per tutti grazie arrivederci arrivederci buona serata grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti